C'è un nuovo modo di sostenere le mostre del meeting 2019 attraverso la piattaforma di crowdfunding Rete del Dono. È un modo interessante di costruire le mostre insieme a noi e potete farlo tutti voi In qualsiasi momento potete decidere di sostenere o tutte le mostre del meeting o tre in particolare La prima che vi propongo è quella di Tony Vaccaro, un grande fotografo italo-americano Che noi abbiamo personalmente conosciuto nel mese di febbraio a New York Nella sua casa studio bellissima, ricca di storie e di fotografie Che porteremo proprio al meeting, una scelta di 52 immagini che abbiamo fatto insieme a lui E sarà entusiasmante vedere lui stesso in mostra insieme alle sue foto Ritornerà quest'anno una grande mostra di arte contemporanea Dove porteremo non l'opera finita, ma l'artista nel suo processo creativo di realizzazione dell'opera Ci saranno sei artisti che ci mostreranno come si crea un'opera d'arte E questo è un processo interessante, personale, particolare a cui tutti parteciperemo E poi una mostra realizzata dai nostri amici americani dal titolo Bolle, Pionieri e la ragazza di Hong Kong Che tratterà della realtà americana attuale e parlerà di uomini che hanno sempre cercato la libertà E che oggi per paura della realtà si rinchiudono in bolle, in spazi sicuri E ringrazio già da ora tutti coloro che decideranno di diventare protagonisti insieme a noi Di questa grande avventura di costruzione delle mostre del Meeting 2019 Grazie